Tragedia nella tarda mattinata di ieri sulla Statale 18, a perdere la vita in un incidente l'infermiere Michele Affricola, 54 anni, di Salerno. E' rimasto vittima di una fatalità che non gli ha lasciato scampo. Una prima ricostruzione dei fatti era la guida di uno scooter, quando all'altezza di Viale Verdi si è scontrato con una Fiat Punto che proveniva in direzione opposta. L'impatto è avvenuto mentre il conducente della macchina, una persona anziana di 84 anni, stava svoltando a sinistra per raggiungere una delle attività commerciali della zona. Michele Affricola è caduto sull'asfalto riportando gravi lesioni alla spina dorsale. Repentino l'intervento di un'ambulanza del 118 con gli operatori della Croce Bianca, poi la corsa al vicino ospedale Ruggi di Salerno. Giunte in gravissime condizioni, i sanitari hanno tentato l'impossibile per tenere in vita Michele. Purtroppo l'uomo è deceduto in poco tempo. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri della stazione di Ponte Cagnano-Faiano, coordinati dal Maggiore Vito Antonio Sisto della Compagnia di Battipaglia. I militari hanno tracciato la sequenza delle diverse fasi del sinistro e posto sotto sequestro sia l'automobile che lo scooter.